a prima vista ti piace questa sf 15 t partiamo dal presupposto come diceva enzo ferrari la macchina bella è quello è quella che vince poi guardiamo quella dell'anno scorso era brutta perdeva pure però devo dire che questa è molto molto bella cioè dal mio punto di vista è una ferrari veramente sexy hai detto a natale che due vittorie sarebbero già una soddisfazione confermi questo approccio per la stagione sì assolutamente sì tanti pensano che con questa dichiarazione si voglia mettere le mani avanti non vogliamo mettere le mani avanti siamo più realisti del re ci siamo trovati un certo tipo di situazione la macchina non si costruisce in tre secondi c'era già alcune modifiche sostanziali sono state fatte in base ai tempi che erano comunque molto molto ristretti qualcosa si sta muovendo secondo me si sta muovendo nella direzione giusta detto ciò confermo assolutamente quello quello che ho detto sebastian fette è l'uomo nuovo in squadra chimi raikkonen al ruolo del veterano per così dire in che modo possono integrarsi fra loro nel lavoro ma l'hai detto tu dovranno integrarsi soprattutto lavorando insieme il mio compito sarà quello che di evitare che si creino gruppi e gruppetti si lavora tutti in una direzione che la direzione della ferrari non che l'anno scorso ci fossero dei gruppetti penso proprio di no ma se ci fossero stati quest'anno sicuramente non ci saranno i due ragazzi lavoreranno insieme lavoreranno insieme in una squadra e tutta la squadra lavorerà con loro e per loro ma soprattutto come dicevo prima per la ferrari è già anche tempo anzi è sempre tempo di discussioni anche a livello globale per definire un po il futuro rassetto della formula 1 come si pone la ferrari in queste discussioni ma la ferrari è un'azienda che ha fatto ed è la storia della formula 1 quindi credo che la nostra voce sia una voce importante con questo non deve essere l'unica voce ma nemmeno altri devono far valere la propria voce come se fossero dei diktat per tutti ci vuole un'evoluzione della formula 1 ha detto qualcuno io ripeto la formula 1 alla formula 1 di oggi non basta un'evoluzione ci vuole una rivoluzione bisogna ritornare tra la gente far appassionare la gente che non significa solo portare lo show quantomeno giovedì fuori dai circuiti ma significa avere delle macchine belle avere delle macchine competitive far divertire il pubblico e possibilmente da parte nostra vincere nuova da monoposto e tutta nuova anche la squadra anche a livello dirigenziale cambia qualcosa nella filosofia no la filosofia resta invariata la filosofia parte da dal fondatore denso denso ferrari che e questo è come dicono gli inglesi la core value per per tutti noi e tutti devono fare il loro dovere e quindi non c'è una filosofia di serie a di serie b una filosofia che è detta qualcuno o qualcun altro deve essere chiara per tutti quello che c'è da fare è ricostruire un team dar fiducia alle persone e andare avanti tutti a testa bassa e l'obiettivo è inutile che lo ripeta è chiaro per tutti